Centrodestra al governo, centrodestra di governo che è quello che mantiene gli impegni con i propri elettori. Noi ci sentiamo centrodestra di governo quando gli elettori ci daranno la possibilità di farlo, alternativi agli amici del PD, dei 5 Stelle, che hanno un'altra tesi. Anche Mario D'Arachi ha un'altra tesi, sicuramente sul fisco, rispetto a quanto il centrodestra ha scritto nei propri programmi. Io non sono ottimista come gli amici dell'incontro che loro hanno fatto, prima insieme a noi tenendo ferma l'asticella rispetto a una delega fiscale che a nostro avviso segue la relazione tecnica che annuncia un aumento delle tasse legate a questo provvedimento. Sono due documenti che viaggiano insieme. Se oggi centrodestra al governo con il PD e 5 Stelle si accontenta delle rassicurazioni non scritte del presidente Draghi, io spero che sia così. A me interessa quello che gli italiani vedranno e proveranno, a mio avviso, rispetto a un obiettivo che c'è, che è quello di alzare le tasse sulla proprietà privata e sul risparmio degli italiani a compensazione di un debito che noi riteniamo invece, mi faccio concludere solamente direttore Vespa, che è a compensazione di un debito che va pagato invece con una crescita economica di questa nazione, non con un aumento delle tasse.